Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! È tempo di un nuovo eliminato nella casa del Grande Fratello VIP. Nella prima serata di giovedì 13 ottobre 2022, assisteremo a una nuova puntata all'insegna del Royalty Show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. In questa sede ci occuperemo del concorrente che rischia di essere eliminato dalla casa del Grande Fratello VIP, proprio nel corso della puntata che andrà in onda stasera in diretta sulla rete ammiraglia di casa Mediaset. Cinque grandi protagonisti del reality targato Mediaset sono in ballo al televoto. Uno tra Gegia, Jaele Dedonà, Charlie Nyaochi, Attilio Romita e Nikita Pelizzon dovrà salutare i suoi compagni d'avventura ed uscire dalla Porta Rossa per sempre, a chi toccherà. In vista del nuovo appuntamento con il Grande Fratello VIP tornano anche i consueti sondaggi sul web con le principali preferenze del pubblico da casa. Chi è stato il più votato? Non ci resta che dare subito uno sguardo ai risultati online. Il televoto anche questa settimana è in positivo. I telespettatori rispondono alla domanda. Chi vuoi salvare? Ecco le percentuali di voto. Nikita è la più votata con il 47% di voti, secondo posto per Jaele con il 17%. Terzo posto per Attilio con il 16% di voti, penultima posizione per Gegia con 14%. Ultimo posto per Charlie Gnocchi con il 6%. I sondaggi sembrano parlare chiaro. Ad avere la peggio potrebbe essere Charlie. Siete d'accordo?